Ringrazio, mi fa piacere che abbia ricordato questa iniziativa del Movimento 5 Stelle e mi fa piacere parlare con voi di un'Italia smart, capace di guardare anche a nuove forme di organizzazione del lavoro, all'innovazione, alle opportunità che ci sono state offerte nell'ultimo periodo, perché diciamola tutta, questa accelerazione che c'è stata è frutto anche della pandemia, quindi di uno stato di necessità in cui siamo ritrovati, che ha richiesto però da parte nostra anche una buona dose di coraggio di cercare di affrontare il presente, ma nello stesso tempo di inseminare anche per il futuro, cioè di accelerare la modernizzazione del Paese, perché è chiaro che qui si sta realizzando una vera e propria rivoluzione, abbiamo una direzione e noi a mio avviso non possiamo rimettere indietro le lancette del nostro orologio della storia, non avrebbe senso. Mi è dispiaciuto, ad esempio, dopo aver affrontato la fase della pandemia, assistere a un rientro massiccio per quanto riguarda dei lavoratori, soprattutto nel settore pubblico, mentre secondo me il settore privato ha saputo più efficacemente, tempestivamente trarre vantaggio da questa condizione di necessità.